Salve a tutti ragazzi, bentornati da Mike Scioscia, sono con la mia ragazza Ambra Ciao E siamo a Romics, voi non lo potete vedere perché siamo in macchina Oggi è il primo giorno È il primo giorno di riprese perché gli altri giorni ragazzi è stato veramente impossibile Oggi ci sarà tipo il panico e quindi come non registrare nel giorno di più macello possibile Quindi ragazzi vi farò vedere la mia esperienza qui a Romics con tutti gli altri amici youtubers, cacchiate varie eccetera eccetera Ci vediamo dentro ragazzi, un saluto a tutti e alla prossima, ciao ragazzi Ciao Vi saluto già perché sennò poi mi dite Mike che non ci sta il finale Ciao Siamo il capo di YouTube Brasile Brasile di youtuber Un abrazzo E tu sei troppo sculato, te ne devi andare E io, i Dodi, tu manco uno, due, manco uno, due Io ho scusato Un po' di musica dice, dai viti insieme a noi, vai, in senso l'arrivo, vabbè, in senso l'arrivo, vabbè Siamo, Morri, è Giambidec Golden Giambidec Golden Giambidec Ma cosa dite, uffa Guarda, sembra una giraffa Sì Nooo Giraffe parlanti Meeeeeee Scusa Mike, che mi racconti, come va questo Robyster? Eh, va bene, se non fossimo presi d'assalto dalle ragazzine Eh, magari, cazzo, dalle ragazzine, porca troia Robyster 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 Sappiamo che nella lingua aborigena siro-babilonese La parola stronzo aveva un significato ben diverso Da quello attuale Essa sta a significare Iscrivetevi al canale di Mike è un grande questo è il canale di mysosha ma mysosha è un attimo assente ma buono che il telefono non è manco il mio di chi è? Neambra ah vabbè allora lo potremo spaccare bene, te lo conosci mysosha? no te lo conosci mysosha? si si, e io ci credo te lo conosci mysosha? si si, bene tu lo conosci mysosha? tu guarda mysosha? questo è il video di mysosha bene, direi che tutti conoscono mysosha tutti amano mysosha Oh! Ciao ragazzi! Siamo qui! Ragazzi! Ciao! Ciao! Bella! Ha orto schifo la gente! Molto carino come fa quella ragazza, veramente. C'è quel fascino che... Ragazzi comunque, io voglio fare una cosa più un po' con quest'uomo. Dobbiamo fare un pacco lungo un po' particolare. Nudi. No, 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 niente le cose porno, cose così. Vabbè. Attenzione, è da solo. È da solo. È da solo! È da solo! GOOOOO! In realtà non hanno segnato. Non l'hanno segnato. Tutto a posto. Ciao Josina, io sono un uomo del posto, quindi... Se vuoi andare in mezzo alla gente, magari facciamo qualche domanda a te. Mi pare giusto. Applausi ragazzi! E felicitazioni! Venti in cinta roppo! Applausi! Allora ragazzi, siamo qui con Jumpy Tech. Allora ragazzi, siamo qui con Gordon Jumpy Tech. Cosa? Allora ragazzi, siamo qui con Jumpy Tech che ha da poco fatto la prima comunione. Esatto. E che cosa hai ricevuto per regalo? Ho ricevuto un telefono, un mago su di questi, 50 euro per andare sul palco e un make sense regalo. Ha vestito o nudo? L'hai vestito, però io l'ho spogliato. E non ho trovato il disegno, come Kendall, come Barbie. Il bollo ma la bolla, il passerò la passerà, ma tutti quanti amano... Mike Shosha! Tutti quanti amano... Mike Shosha! Mike Shosha! Mike Shosha!